Ciao amici spettatori del Teatro Veneto, amici di Arteven, mi raccomando abbiate pazienza, restate ancora nelle vostre case, noi presto torneremo, sarà finito tutto e torneremo nei vostri meravigliosi teatri ad allietarvi con i nostri spettacoli, non vediamo l'ora di tornare, di abbracciarvi tutti, anzi di baciarvi, di baciarvi tutti, ciao!